è iniziata la stagione delle allergie il poliamore la mia vita con i miei animali con le mie piante tante cose diverse insomma in particolare oggi farò questo formato che si chiama posta del cuore in cui ogni tanto chiedo a voi su instagram di mandarmi in forma anonima delle letterine diciamo in cui mi raccontate le vostre questioni amorose e io vi rispondo dando la mia umile opinione quindi semplicemente di persona che vive la vita non di esperta di alcun tipo ecco però è sempre bello fare queste cosine mi arrivano sempre tante tante letterine non riesco mai a rispondere a tutte però faccio del mio meglio per rispondere a più letterine possibile iniziamo subito con la prima letterina fare sesso al primo incontro o aver voglia di solo sesso in generale sì o no paura del giudizio esterno di essere troppo facile tra virgolette ancora nel 2023 cito il verso della canzone di emma siamo sante o puttane per la società che ne pensi potendo a farlo con chi mi piace davvero e mi affeziono anche ma ci sono periodi in cui per bisogno fisiologico tra virgolette sano ha detto di una psicologa che conoscono non mi dispiace il solo sesso che male c'è a lasciare esprimere quella parte di noi libera e trasgressiva allora anche secondo me anche considerare il sesso come una cosa trasgressiva è parte di questa cultura sessofobica in cui viviamo cioè il sesso fa parte della vita alcune persone lo amano molto alcune persone non sono interessate al sesso ma non è una cosa strana trasgressiva particolare eccetera questa questa narrazione qui ci è stata insegnata che oddio mio cos'è il sesso aiuto no ma in realtà non è non è una cosa strana e anche legare il sesso soltanto esclusivamente all'amore anche questa è una narrazione che ci è stata fatta nel senso che io non ci vedo niente di male nel fare sesso con consenso con persone di cui non sei innamorata con cui non hai un interesse romantico cioè il sesso può esistere anche in amicizia può esistere anche con persone con cui non hai interesse a portare avanti una relazione purtroppo siamo cioè ci abbiamo siamo state indottrinate con questa cosa che il sesso è una cosa impura sporca che bisogna fare solo dopo il matrimonio solo per fare figli eccetera qui c'è tanto anche l'influenza della chiesa su questa cosa qui no senza voler entrare in merito religioso eccetera però è inevitabile cioè è innegabile il fatto che ci sia molta influenza della cultura puritana in questa cosa qui se chiedi a me ti dico che questa per me è una cultura totalmente da abbattere perché questo tipo di pensiero caso anche un sacco di difficoltà e di problemi con il sesso a tante persone quando invece sarebbe semplicemente bello ricevere una bella educazione sessuale fatta bene non come quella che riceviamo nelle scuole che è super carente quando ce la fanno perché spesso neanche la fanno e continuare a educarci anche crescendo e anche da persone adulte e vivere la sessualità come ci sentiamo di viverla cioè una persona vuole fare sesso solo con persone di cui si innamora ma buonissimo per lei va benissimo però non è l'unico modo per vivere la sessualità ci sono mille modi per vivere il sesso per me assolutamente sì cioè se tu hai voglia di fare sesso non devi neanche giustificarlo come bisogno fisiologico o chiedere se è una cosa sana o non sana cioè semplicemente il sesso fa parte della vita è ok no noi siamo in questa cultura stranissima in cui abbiamo la fobia del sesso perché oddio mio che roba strana però allo stesso tempo siamo iperfissati col sesso perché ovviamente una cosa si viene vista come proibita eccetera acquisisce anche un sacco di fascino no quando invece semplicemente è una parte della vita cioè per alcune persone di più per altre di meno ho spostato un pochino l'inquadratura perché continuavo ad andare fuori fuoco e mi stavo innervosendo finché tra persone adulte con consenso fai tutto il sesso che vuoi sinceramente usciamo un po' da questa mentalità di doverlo giustificare questa mentalità per cui non va bene se lo facciamo capisco perché ti venga da porre questa domanda perché purtroppo cresciamo in una società che ci cresce così cresciamo in una società che ci cresce mi sono un po' ripetuta perdonami prossima domanda mi sono innamorata di una ragazza conosciuta alla fermata dell'autobus che cosa romantica abbiamo parlato io sono caduto miseramente ai suoi piedi ci siamo persi di vista per mesi e adesso l'ho trovata su instagram ho paura di farmi avanti se le scrive se le scrivessi sarebbe strano e nel caso cosa allora secondo me questa è una cosa troppo troppo carina cioè scrivile ti prego scrivile ti prego scrivile e boh c'è in modo molto casual secondo me ci sta scriverle tipo non lo so ciao ragazze la fermata dell'autobus tipo una cosa del genere no per iniziare la conversazione spero che vada avanti che cosa dolce troppo bello ti prego aggiornami su come va questa cosa voglio saperlo spero tanto che vada bene non lo so sono troppo belle queste cose che succedono a volte per cui tipo incontri una persona in modo totalmente casuale no e c'è un bel click e c'è una bella energia e dai l'hai ritrovata quindi ci sta a provarci secondo me al massimo non va però provare cioè secondo me provare vale sempre la pena preferisco sentire la tristezza perché non ha funzionato che provare il rimorso di non averci provato io per come sono come persona quindi il mio take è prova terza domanda siamo usciti una volta dopo anni di messaggi ci siamo baciati per tre ore io avevo paura di non piacergli perché lui super sportivo bello io sono ingrassata e glielo avevo detto ma poi mi sono presa coraggio pensando che la vita è una sola e quando ero magra alla fine non ci siamo incontrati mi ha scritto la sera e il giorno dopo dicendo che era stato bene anche se non a breve ci saremmo rivisti passato un mese ma lui non propone nulla dice che è incasinato che ha tanto impegni so che si sente anche con altre ragazze e penso sia libero di farlo dato che non stiamo insieme ma penso che se qualcuno sia davvero interessato a te trovi il tempo la voglia di rivedere quella persona dovrebbe essere forte so che ognuno ha i suoi tempi ma tu aspetteresti un mese prima di rivedere la persona che ti piace mi aveva anche bloccata su whatsapp e poi sbloccata dicendo che non sono le altre ragazze il motivo ma i suoi impegni che ne pensi allora prima cosa so che viviamo in una società molto grassofobica che quindi ci dice che se ingrassiamo siamo brutte e invece uno sportivo è figo però ti prego cioè io non voglio fare assumptions cioè non voglio assumere cose però dal tuo messaggio mi sembra di quasi che tu ti ponga in modo inferiore a lui perché lui è sportivo e tu sei ingrassata già questa cosa qui non è bella se una persona ti fa sentire così io direi taglia cioè vai via non c'è una persona che è più brava o più bella o più buona di un'altra perché è più magra e l'altra è più grasse quindi è inferiore ok questa cosa qui già non mi piace poi sono d'accordo con te se una persona cioè se tu interessi a una persona quella persona al tempo lo trova mi sembra che questo ragazzo stia trovando una scusa dietro l'altra cioè il fatto di bloccarti su whatsapp perché hai impegni è una gran cavolata cioè mi sembra un po' che questa persona non sia non si sta comportando in modo onesto dicendosi semplicemente che magari non è interessato no cioè se una persona ti evita non trova il tempo non ti c'è lascia perdere ma io ti direi lascia perdere già dal fatto che in qualche modo ti ci senti inferiore so che non l'hai detto tu questa cosa dal modo in cui hai scritto il messaggio questa è un po' la percezione che io ho avuto ti meriti di molto meglio che di stare con una persona che ti evita che non ti vuole ma che non ha il coraggio di dirtelo e che ti fa sentire inferiore come se tu fossi fortunata perché lui bello sportivo ti caga no no basta con questa cosa che se uno è bono canonicamente ed è sportivo allora siamo fortunate se ci dà le sue attenzioni no cioè non esiste questa cosa qui quindi per me elimina proprio elimina perché è vero cioè se a una persona piaci trova il tempo per te ok e questa persona sta trovando un sacco di scuse quando dovrebbe avere semplicemente il coraggio di dirti che magari ok vi siete sentiti per anni e poi di persona non ha avuto quel click che ne so capito invece tenerti lì appesa è proprio una cosa veramente da stronzo sincera se una persona con la quale sei uscita due volte ti dicesse bel viso ma per far innamorare dovresti dimagrire raga cos'è questa cosa è la fiera della grassofobia perché una persona la prendi mentalmente anche se ti piace fisicamente ti sentiresti ferita arrabbiata avresti colto e magari è vero che sei ingrassata ma conta per far innamorare qualcuno raga ma basta basta con questa cosa che dobbiamo essere magre per forza per far innamorarla ma che cavolo elimina questa persona dalla tua vita eliminala eliminala non permettete a nessuno di dirvi cosa dovete fare col vostro corpo cioè una persona che vi dice che dovete ingrassare dimagrire truccarvi non truccarvi eliminatela del vostro corpo potete decidere voi e basta una persona che vi dice che per innamorarsi di voi ha bisogno che voi cambiate fisicamente è una persona che sta agendo in modo tossico e manipolatorio non è ok non è ok ok quindi no non è una questione di cogliere che è vero magari sono ingrassata e quindi anche se sei ingrassata che succede che succede non sei più bella non sei più valida no basta 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 cioè io vi giuro di questa cultura qui sono stufa agra sono stufa agra e ancora più stufa sono di vedere che le persone soprattutto di solito uomini che dicono queste cose però per carità non voglio generalizzare succede anche che anche un sacco di donne sono grassofobiche non sto dicendo solo gli uomini sono grassofobici succede spesso di sentire e oggi su quattro domande già due sono di donne che mi dicono è questo ragazzo mi ha detto che dovevo dimagrire per star con lui no raga scappate a gambe levate scappate a gambe levate questa persona è grassofobica oltre che completamente irrispettosa perché non è lui che può decidere qual è la forma che hai tutto il tuo corpo scappa via ok cioè ognuno può avere i suoi gusti e siano d'accordo perché io già lo vedo il commentino che dice vabbè ma io ho i miei gusti anch'io ho i miei gusti ma non mi permetterei mai di dire a una persona di cambiare il suo corpo per rispettare i miei gusti questa non è una questione di gusti è una questione di grassofobia e mancanza di rispetto ok perché tu i tuoi gusti i tuoi gusti e le tue preferenze le puoi avere ma non puoi aspettarti che gli altri cambino non sei dio in terra non sei oh mio dio che gli altri devono cambiare per essere appetibili per te non siamo prede per questi uomini quindi per favore run veramente ma a gambe levate proprio vi meritate di molto meglio ma cosa ci state a fare con questa gente cioè nel momento in cui uno vi dice una roba del genere ma ciao amico ma mai più non mi rivedi mai più non esiste cioè non ve la fate neanche la domanda se ha ragione cioè non ve la fate proprio via scappate via ciao ciao ecco scusate queste cose mi fanno proprio incazzare ecco non sono incazzata con voi che mi avete scritto il messaggio sono incazzata con questi stronzi ok prossima domanda ti capita mai di risentire tua ex o pensi che una volta chiusa una storia nonostante il bene magari è ancora rimasto e la stima verso quella persona non sia il caso di mantenere un rapporto se c'è ancora attrazione allora diciamo che io ho molte cioè la maggior parte delle persone con cui sono stata sono mie amiche ora e se non sono mie amiche sono persone con cui ho un rapporto comunque cordiale per come la vivo io non è che tipo ok oggi siamo insieme domani siamo amiche non è così semplice non è così immediato cioè io ho bisogno di un periodo anche per vivere il lutto della fine della relazione anche quando è una decisione presa da me o presa insieme no però dopo che questa cosa è passata e comunque ho vissuto tutte le emozioni che dovevo vivere se anche l'altra persona è felice di rivedermi e magari ogni tanto aggiornarci sulle nostre vite mi fa piacere perché penso che quando c'è stato così tanto bene così tanto amore così tanta vita condivisa sia anche bello ritrovarsi non con tutte con alcune persone semplicemente non sento questa cosa non è una cosa che decido attivamente è una cosa che accade moto se non accade naturalmente non me la sento non mi sento questa cosa dentro di me semplicemente augurando sempre il meglio a queste persone cioè non c'è nessuna persona con cui io sono stata verso cui io provo una rabbia o un rancore magari subito sì subito dopo la fine della relazione magari sì ovviamente provo tutte le emozioni che provo però ad oggi cioè sono tutte persone a cui auguro il meglio nella vita che mi hanno dato tanto con cui sono stata molto molto felice e quindi semplicemente i nostri percorsi non sono più intrecciati per la mia esperienza quando una relazione finisce poi l'attrazione si trasforma in qualcos'altro per me non lo so so che non è così per tutte le persone non escludo che per me sarà sempre cioè magari cambierà anche per me questa cosa però al momento sento semplicemente un grande effetto ecco quindi perché no anzi se potessi essere la registra la registra la regista di un film romantico che storia ti piacerebbe raccontare hai in mente una probabile sceneggiatura così per gioco mi piace questa domanda magari mi piacerebbe vedere rappresentata la storia della me di qualche anno fa quindi una ragazza giovane lesbica alle prese col poliamore all'inizio alle prime prese col poliamore e non vorrei che ci fosse una troppia perché le poche rappresentazioni di poliamore che abbiamo sono quasi sempre diciamo relazioni a tre in cui di solito ci sono due donne e un uomo che sono anche una grande fantasia sessuale per gli uomini e esistono ci sono nel poliamore cioè ci sono relazioni poliamorose così però sono una minoranza comunque all'interno della tantissima grandissima possibilità di relazioni e diciamo intersezioni che ci sono nel poliamore quindi ecco penso questo mi sono aperta con una ragazza siamo stati insieme per un mesetto io mi sono affezionata quando ho iniziato a trattarmi male mi ha detto che per lei era solo una cosa fisica io ho chiuso sono passati mesi 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 io sono ancora bruciata non riesco a trovare nessuna che mi vada bene a cui io vada bene sono un po' disperata tu che faresti intanto mi dispiace per questa cosa che ti è successa e cosa farei probabilmente mi prenderei del tempo a volte ci vuole tempo per guarire dalle ferite probabilmente ecco mi prenderei del tempo e se non lo stai già facendo ne parlerei in terapia per capire anche un po' quali sono le cose che ti hanno bruciata quali sono magari dei modi che puoi utilizzare per prenderti cura di te stessa al meglio e mi darei del tempo so che è fastidiosissimo sentire quella frase tipo eh l'amore arrivi quando meno lo cerchi quando meno te lo aspetti bla 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 a me dava sempre fastidio quando le persone mi dicevano così quando io dicevo ah io ho voglia di una relazione però è un po' vera questa cosa no nel senso a volte diventa frustrante tipo dire ok sto cercando una persona e quindi vado in giro attivamente a cercarla è un po' come se ogni volta che incontri una persona la scandagliassi già con quell'idea no e quindi diventa frustrante se poi non trovi la persona che ti piace prova a darti del tempo e anche a toglierti un po' l'aspettativa che devi incontrare questa persona devi incontrare la persona la vita ti porterà opportunità e semplicemente magari cerca di porti in modo aperto verso le opportunità che arrivano per te ma senza avere questa idea precisa che devi trovarti una ragazza ecco così questo mi sento di dirti sono uscita da una relazione tossica da tre anni sono stata con questa persona per undici mi identifico nello spettro asessuale nello specifico demi quindi per me è estremamente difficile entrare in relazione perché non ho la spinta iniziale viscerale che tutti si aspettano che io abbia frasi tipo vedrai che arriverà il momento in cui sentirai la voglia di sperimentare approfondire con qualcuno ma io fatico a crederci perché mi sento di funzionare diversamente non riesco mai a spiegarlo ambulanza tanto disagio perché da un lato vorrei aprirmi in senso romantico e intimo con persone nuove ma dall'altro mi sento un alieno in un mondo che si aspetta e funziona in modo inadatto a me help tanti cuori per te innanzitutto tanti cuori anche per te immagino che sia molto difficile diciamo barcamenarsi in questa situazione quando le persone hanno un'idea specifica di come deve andare la tua vita e il tuo avere nuove interazioni e relazioni c'è questa cosa paradossale per cui da un lato siamo molto sessuofobici in questa società dall'altro lato una persona sessuale viene vista come se fosse veramente un alieno quindi c'è un paradosso pazzesco allora quello che mi viene da dirti è cerca la tua nicchia e la tua comunità non tanto per dire così li troverai una persona da frequentare non è questo il punto cioè anche qui ti dico un po' la cosa che ho detto alla persona precedente cioè non porti con le persone come dire ok sarai tu la persona che frequenterò sarai tu sarai tu no però cerca un po' la tua nicchia magari frequenta gruppi come archi gay gruppi queer giovani eccetera per crearti magari anche un po' un giro di persone che riescano a capire di più quello che tu vivi che riescano a farti sentire comunque compreso ecco se magari poi tra queste persone incontrerai qualcuno con cui magari deciderai di approfondire una frequentazione o magari anche no però cioè quello che io ti sto suggerendo appunto di frequentare questi gruppi queste comunque di cercare un po' la tua nicchia non è tanto per trovare la persona trovare una persona ma più per trovarti in un ambiente che ti faccia sentire a tuo agio perché questa cosa è molto molto importante secondo me prima ancora di capire con chi uscire capire con chi eccetera perché mi rendo conto che è difficile facendo parte di una minoranza poco compresa barcamenarsi in questo mondo delle relazioni degli incontri delle cose quindi trova la tua nicchia trova il tuo spazio sicuro e parti da lì sei una persona bisognosa di tante attenzioni ti piace avere i tuoi spazi anche magari non sentendo la persona che sta con te tutti i giorni pensi che avere le proprie passioni sia importante per poter attrarre gli altri tu potresti innamorarti di una persona pigra senza interessi che un po' spegne la tua luce spenga la tua luce e tolga energie invece di dartela quando ci sono periodi in cui mi sento giù penso se potrei innamorarmi di una come me vedendomi dall'esterno mi dico che io mi amerei di più quando sono solare allegra, attiva carezzando anche la parte di me fragile ma credo conti tanto quello che trasmetti una persona sempre triste e poco attiva trasmette questo no? allora innanzitutto avere passioni non è importante per attrarre gli altri è importante per godersi la vita ok? quindi non pensare che devi trovarti una passione perché così sei più interessante per gli altri cioè godersi le proprie passioni e il proprio tempo per sé è una cosa bella della vita per te non per le altre persone poi certo ti rende anche più interessante per gli altri ma questo non è il punto ogni persona merita amore in ogni momento della sua vita nessuno è sempre felice solare al top super energico no? io ad esempio vivo queste giornate in modo cioè ho giornate in cui sono veramente super contentona felice eccetera e giornate in cui sto de merda ok? non è che merito meno amore ai giorni che sto de merda e una persona che ti ama ti ama sia nei giorni in cui sei bene sia nei giorni in cui stai male non perdi interesse per te perché un giorno stai male perché quello non è amore ok? e non mi piace usare tanto la frase quello non è amore però questa è una di quelle situazioni in cui la uso sono sia una persona che ama i propri spazi e ne ha bisogno e anche una persona che ha bisogno di tante attenzioni cioè sono due cose che non si escludono tra di loro sono due cose che possono coesistere in relazione io ho bisogno di tante attenzioni ho bisogno di sentire spesso la persona con cui sto le persone con cui sto e ho anche moltissimo bisogno di avere i miei spazi per dedicarmi alle mie cose alle mie passioni e anche per stare da sola perché mi piace molto stare da sola così come mi piace molto stare con le persone che amo a volte io mi trovo a dire quando non so tanto bene magari mi trovo a dire alla mia partner che mi dispiace perché so che magari non è facile stare con me in quel momento e quello che lei mi risponde è che lei vuole stare con me soprattutto in quei momenti che a lei piace tanto stare con me e vuole esserci soprattutto in quei momenti perché così almeno è lì con me può farmi le coccole ecco questa dovrebbe essere la risposta della persona che ami quando tu non sei bene non dovrebbe essere un ah che palle non mi piace abbastanza se sei così se sei triste mi tiri giù mi spegni eccetera no perché è fisiologico avere periodi in cui non si sta bene succede chiedi aiuto se ti trovi in questa situazione cioè nel senso io vado in terapia tutte le settimane proprio per aiutare me stessa no nel senso non è compito degli altri tirarti su tutto il tempo non è quello che sto dicendo se hai bisogno di aiuto chiedi aiuto e anche se non hai bisogno chiedilo comunque che fa bene comunque no però la persona che ti ama ti sta vicina che tu sia super solare energetica in quel giorno sia una lampadina di vita sia che tu sia triste e che stia di merda quel giorno quella persona ti ama comunque perché una persona che ti ama ama tutte le parti di te anche quelle che tu fai fatica ad amare e che tu pensi che siano un peso e che siano difficili da guardare e che non ti piacciono e che non vorresti neanche avere ok anche se non è facile amare non è qualcosa che ti viene sempre facile ok cioè a volte non è facile è una scelta l'amore secondo me scegliere di amare anche le parti più difficili più più difficili da amare da vedere dell'altra persona significa amare davvero per me ok e accogliere ed esserci davvero quindi tu puoi essere sia una persona super solare sorridente puoi essere anche una persona super triste e spenta un giorno magari sei una un giorno sei l'altra perché sei un essere umano vivi la vita vivi le emozioni ed è naturale e non pensare a come dovresti essere per attrarre gli altri pensa come vuoi essere perché ti piaci tu perché poi credimi che quando ti piaci tu e ti piace quello che fai e la tua vita le persone poi sono naturalmente attratte da te ma tu questa cosa non la devi fare per attrarre le persone ma per te stessa per viverti una bella vita non focalizzarti tanto sul farlo per attrarre gli altri quanto più per goderti la vita che hai che insomma ne vale la pena ecco dai vediamo faccio l'ultima mi sono lasciata da 4 mesi non riesco a smettere di pensare a questa persona 24 ore al giorno pur facendo un sacco di attività diverse provo molto rapida e non so come lasciarla andare ti rispondo vai in psicoterapia io non sono una psicoterapeuta quindi non mi sento neanche a darti consigli su questa cosa cioè i consigli che do io sono appunto vita vissuta così il consiglio che mi sento a darti è proprio questo cioè vai in psicoterapia tira fuori questa tua labbia questa tua rabbia in modo sicuro ok quindi con una persona esperta professionista che sappia accoglierti che sappia ascoltarti e vedrai che ti farà bene questa cosa e vedrai che andrà meglio questa è una cosa che io mi ripeto e che mi aiuta così tanto vi giuro è una cosa semplice forse anche stupida però quando io sto male e sono nei momenti peggiori a me sembra che non finirà mai questa cosa no e quindi una cosa che mi ripeto è che non durerà per sempre e che prima o poi andrà meglio prima o poi non so quando magari domani magari fra due mesi magari tra un anno però prima o poi andrà meglio e vi giuro che questa cosa mi dà una pace assurda sapere che non sarà così per sempre ecco e niente questo è tutto per il video di oggi io spero di avervi fatto compagnia e magari di aver detto qualcosa di sensato se vi piace quello che faccio potete sostenermi lasciandomi un mi piacino o un commentino o anche entrambe le cose se vi sentite particolarmente generose e generosi io ci sono anche su instagram come naki.earth e anche su tiktok come sempre come naki.earth abbiamo l'ambulanza che ci aiuta a salutare a concludere questo video noi ci vediamo alla prossima ciao anime belle grazie ciao